Easy Go Quindi il vostro gruppo conoscete? Ha già un nome? I terribili 6? Quella sporca mezza dottino? Che ne vinciti? I 6 che hanno chiuso Spider-Man per farne un tappeto Gargant, ti prego! È un nome ridicolo! Prendilo, idiota! Prendilo! Ragazzi, non litigate! Posso giocare con tutti! Rai non si farà togliere il costume! A te Octavius cosa ha promesso, Scorpion! Eh no! Gargant non ha ideali! Non fate per voi! Falso! Spaccherei la faccia Spider-Man anche gratis! Se ci farai perdere, scoprirai quanto fa male questo costume! Provaci in furia rocola! Ti libererò io stesso da quella corazza! Pezzo dopo! Inizio a sentirmi superfluo! Volete risolvere la questione tra voi, per caso? Come ho potuto soffinarmi di un incapace come te! Vai! Rorupack! No, no, no. 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 Hai idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito? Io fallito? No, 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 no. Una convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo. Ok, Yuri, ne abbiamo presi quattro, restano solo Octavius e Lee. Qualcosa mi dice che non saranno tre le facili, ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita.